Musica Rieccoci, rieccoci a un nuovo appuntamento con Personaggi Night Show Vi raccontiamo come sempre puntuali coloro che hanno fatto grande la nostra provincia e non solo, vi raccontiamo davvero tanti personaggi in questo programma che riprende e che ha tanti spunti Oggi ne abbiamo uno davvero unico Unico perché davvero ci ha fatto morire da ridere in questi anni di grande carriera sui grandi palchi della comicità italiana partendo da Zeli e da Colorado Ho il piacere, e sono anche emozionato, perché no, di intervistare a Personaggi Stefano Chiodaroli Benvenuto Stefano Ciao Stefano, grazie a te, ben trovato Grazie mille di aver accettato questo invito, di aprirti un po' a 360 gradi raccontando la tua corriera, le tue cose anche personali, perché no Io parto però un po' dall'attualità, sono curioso, io ho letto qualcosa in questo periodo sulla stampa che dice che stai ultimando la partecipazione, o l'hai già ultimata la partecipazione ad un film che uscirà a primavera? Ah sì, il film è già montato, hanno già fatto anche la color correction Questo film si intitola, devi dirlo pianissimo, è una commedia, è una storia particolare dove io, adesso non posso spoilerare più di tanto, però è una storia particolare dove io sono al quarto gay della mia carriera cinematografica Sono uno dei protagonisti, insieme a Pietro Pignatelli, insieme a Lucia Vasini ed è una storia di un uomo a cui è venuta a mancare la moglie ma poi emerge che lui ha avuto una storia con un altro uomo deve raccontarlo ai figli, deve raccontarlo alle sorelle che sono molto possessive e nascono tutta una serie di situazioni di commedia è una commedia molto raffinata dove devo dire che io come attore di commedia faccio la mia porca figura Non poteva essere altri uomini, ti esdeva, no? Ma quando uscirà ci puoi svelare qualcosa in più? Io sono un tipo chiacchierone, quando uscirà farò il chiasso necessario perché tutti lo sappiano Magari tornerò a parlarne qua Sicuramente, ben volentieri La regia di Pasquale Marrazzo e gli altri protagonisti sono Pietro Pignatelli e Lucia Vasini Ti sei ritrovato in quel personaggio che hai interpretato? Mi sono ritrovato nelle ansie di un padre di famiglia che quando ti trovi ad avere figli adolescenti devi sempre governare un po' le cose quando erano piccoli stavano dove li mettevi adesso invece dopo i 14-15 anni, 16 anni ogni cosa va negoziata, spiegata con coinvolgimento il mestiere di padre non è semplice, comunque mai È più facile fare il padre o il comico davanti ad una platea di Zelic? Sono difficili entrambi perché il padre, quantomeno il padre è uno se non è un irresponsabile poco di buono per fare il padre c'è un istinto che prima i figli e dopo noi in qualche modo per fare il comico diciamo che serve un briciolo di talento e poi ci vuole tanto tanto lavoro perché solo il talento al massimo ci regala 5 minuti di simpatia o una cena al ristorante insieme agli amici ma poi bisogna andare avanti Certo, un'altra cosa che hai coltivato, passione che hai coltivato negli ultimi anni e che ora, perché no, e te lo auguro possa diventare una tua seconda occupazione passami questo termine, è la pittura Ah sì La pittura, noi abbiamo un po' di quadri che tu hai realizzato Sì, sono tutti, eccoli qua Eccoli, eccoli Per il momento vi sto scatenando usando l'acrilico, molto acrilico su delle tele o su dei cartoni telati Diciamo come è nata questa passione Io ho sempre dipinto, ho sempre disegnato, sin da quando ero ragazzino C'è chi va a pescare per rilassarsi, c'è chi gioca a calcio, c'è chi gioca a golf, c'è chi va in bicicletta La mia grande relax, la mia grande pace è accendere della musica classica, magari Bach Magari delle suonate di violoncello di Bach e poi mi metto lì e disegno Quando ero ragazzino io prendevo grandi fogli in cartoleria e dipingevo migliaia e migliaia di soldatini Che mia madre da una parte era contenta perché mi vedeva tranquillo Dall'altra parte, insomma, diceva, sto ragazzino che mi dipinge migliaia di soldatini Qualche preoccupazione, perché io credo di avere, non lo so, io se chiudo gli occhi immagino battaglie Immagino scontri di cavalieri da sempre, ho sempre desiderato vivere in modo intrepido Come un crociato Sì, come un crociato, come un cavaliere templare, come un giovannita, come un guerriero vichingo Io ho sempre, ancora adesso, facendo le debiti e proporzioni col momento storico presente E con la responsabilità di uomo civile, però è un tipo di esperienza, quella del cavaliere, del guerriero Che mi affascina, non mi vergogno di dirlo Per cui dipingevo soldatini Mia madre mi ha portato dallo psicologo perché ha detto, guardi, è un bravo ragazzo C'è qualcosa che non va Io quando vedo che uno fa migliaia di soldatini, qualche domanda me la faccio Lei ha una risposta, gli ho detto, guardi, con l'adolescenza dovrebbe smettere Non lo smesso mai E mi è capitato poi di un giorno che aspettavo un aereo alla mezzia terme L'aereo era in ritardo E io ho dipinto dei soldatini sul dorso di un libro Ho pubblicato la foto su Instagram Una critica d'arte che si chiama Mattea Micello Che tra l'altro abita qua a Vigeva Abbiamo qui un personaggio della critica d'arte Sì, sì, è importante Sarà un altro personaggio a intervista Sicuramente perché può raccontare un sacco di cose Mi scrive e mi dice Caspita, com'è interessante, com'è forza espressiva Fai altre opere Io avevo delle altre cose che avevo dipinto Glielo date Lei l'ho trovata interessante E quindi adesso ho già esposto a Venezia Con la presenza di Sgarbi A Torino Con la presenza di Frigerio L'università di Sofia in Bulgaria Ha chiesto un mio quadro per poterlo esporre Nell'università A Pavia, quando c'è stata la festa di Pavia Che c'era la mostra dei Longobardi Grazie ai buoni uffici E all'amicizia anche di Marco Lodola Che mi ha invitato Comunque, trattandosi Essendo che i miei quadri Il titolo delle esposizioni dei miei quadri è Battaglie d'Occidente Ha detto, beh, c'è questa esposizione di Longobardi Tu sei un artista pavese Secondo me ci sta E ho esposto anche lì E adesso sono già quotato Sono online C'è un mercato di questi quadri E io mi diverto Ancora adesso mi diverto molto a farli Vado nel mio laboratorio Accendo la musica Prendo i pennelli E faccio quello che voglio Ti viene senza un minimo di pensiero Cioè butti giù di cuore Di pancia Ho un'idea Prendo la matita Io prendo la matita E disegno il primo omino O il primo cavallo Quando ho il primo omino O il primo cavallo Io so la dimensione E la proporzione Che avrà tutto il resto dell'opera E poi parto E mi scateno Nel giro di due giorni Lo faccio Ti sei beccato anche tu Della capra da sgarbi Visto che è Tavi No Visto che lui è Lui è un provocatore Ma io non sono un provocatore Non sono come lui Nel senso È un tipo di Non è il mio modo Non è il tuo modo di agire Lui fa spettacolo così Io di temperamento Sarei anche più brutale Però perché devo manifestarlo In televisione Questa brutalità Hai già qualche mostra In programma? Adesso ho in mente Di fare un'esposizione Con città Di presentare i quadri Alla città di Vigevono Però non voglio presentarli Né in una pinacoteca Né in una galleria Né in una Voglio fare Voglio presentare i quadri Invitando amici Invitando anche la città In qualche modo Nell'officina meccanica Dal fabbro Che mi ha fatto le cornici Che è questo matto Più matto di me Che si chiama Grezzanti Che è un fabbro Al quale appena ho detto Che tipo di idea avevo Sulla cornice Mi ha detto Io ho capito Che tu sei un matto E che sei più matto di me E a me i matti piacciono È nata una grande amicizia E adesso praticamente Io realizzo insieme a lui Con il suo sapiente mestiere Organizziamo Facciamo queste cornici Che sono fatte di acciaio Questo acciaio Vuole un po' ricordare L'acciaio delle spade L'acciaio delle armature L'acciaio dell'officina Io quando ho iniziato a lavorare Ho lavorato anche in un'officina meccanica E per me Questo mettere i miei quadri Il mio fare arte In un'officina meccanica Crea idealmente un legame E un'unità In tutto quello che sono stato In questi anni Ero convinto che tu l'organizzassi La mostra dal panettiere No Conoscendo il tuo personaggio Quest'anno penso al panettiere A marzo Compie vent'anni Porca miseria Compie vent'anni E io ogni tanto Cerco di liberarmene Di liberarmene Ma non perché Per dare spazio agli altri Non perché non ne posso più Perché il panettiere Mi ha dato il pane Perché il panettiere Mi ha portato fortuna Perché il panettiere È una maschera forte Che mi ha permesso Di entrare Da mille editori Con grande forza Con grande prepotenza Però mi sono imposto Una regola Che il panettiere Lo faccio solo Quando me lo chiedono Quando me lo chiedono Io volentieri lo dono Ma io non lo impongo più a nessuno E non lo propongo più a nessuno A meno che non mi venga Espressamente chiesto Allora Noi abbiamo direttamente Da Zelig Proprio un momento Della tua Una striscia Insomma Quindi prego Daniele In regia Di far partire Proprio il primo firmato Da Zelig Che è quello Insomma Uno dei classici Relativo alla suocera Wow Oggi è il giorno Più bello Della mia vita Questa mattina Alle otto È morta mia suocera Mi dispiace Che è morta Perché Perché volevo ammazzarla io E non mi passa Non mi passa Non mi passa Non mi passa Al palissandro Con i freggi dorati Può arrivare a costare Anche 1500 1500 Ma che dico 8500 euro Sono andato dal becchino Gli ho detto Ehi Becchino Ma sei pazzo Caprezzi sono questi qua Lui mi dice Signor Chiodaroli Tenga presente comunque Che il funerale È l'ultimo viaggio Ho detto Ho capito Che è l'ultimo viaggio Ma ci sarà Un last minute Anche in queste piccole cose No? Insomma Un personaggio Che ormai è entrato Un po' Nei grandi Della comicità italiana Sì Beh Dei grandi non lo so Diciamo che mi sono Mi sono ricavato Un mio spazio Una mia identità Penso che sia Una mia furiosa identità Un personaggio comico Perché Dici che ti sei Un po' stufato Di 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 Chiodaroli Il panettiere No ma Non mi sono stufato Non è una cosa negativa Nel senso Ho voglia di altro Che non sia solo quello Mi sono stufato Io ho iniziato a fare Il panettiere È una delle cose Che mi è venuta bene Ma dentro una vita In cui volevo fare tante cose Quando ho fatto il panettiere Era il dodicesimo personaggio Di venti Che provavo a fare È venuto bene Ma ha dato quello Che doveva dare Ma poi il mio mestiere È fatto di curiosità Di sperimentare Per due motivi Per una vanità di attore E di artista E anche per un bisogno commerciale Di non fare sempre le stesse cose Per cui Benvenga il panettiere Però voglio provare Anche a fare altre cose Stefano Ti ricordi qual è il primo personaggio Che hai sperimentato Magari che non ha avuto fortuna Ma che comunque Te lo ricordi con piacere Magari davanti a uno specchio Lo provavi Ah beh Una delle prime cose Che facevo in teatro Era uno che chiamava Uno che era in contatto Con gli astronave Con gli alieni Per cui si metteva In un cono di luce Guardava la luce Si metteva a chiamarle Con lo stesso rumore Di incontri ravvicinati Del terzo tipo Era una cosa più o meno così Misteriose abitanti Provenienti da pianeti sconosciuti Mettetevi in contatto Con me Oh 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 Questo mi ha reso interessante Alla platea dei comici Però obiettivamente Non aveva un grande potere comico Dopo un po' L'ho accantonato Certo Quindi Alieni Soldati Insomma Qualcosa In effetti tua mamma Qualcosa Aveva ragione Sì No Poi Nessun matto Pensi di essere matto Io so di essere un po' un ragazzone sopra le righe, però per me il mio sopra le righe è veramente, sono consapevole di tutto, dentro un grande standard di normalità, ma no, no, arte lo lascio dire a te, io però vivendo così mi sento felice perché esprimo arbitrariamente quello che mi passa per la testa e questo mi fa sentire bene. E il personaggio invece a cui sei più legato, a prescindere dal panettiere, che è quello come hai detto tu, che ti ha dato effettivamente il pane e forse la notorietà maggiore? E' quello del panettiere, perché alla fine il panettiere è una maschera, le maschere non servono per nascondere, ma le maschere servono per svelare, il panettiere mi ha permesso di svelare a 30 anni quelli che erano stati i miei 15-16 anni precedenti, ero stato un garzone veramente di fornaio, di magazzini alimentari, un rappresentante di commercio di genere alimentari e tutta la ricchezza emotiva e tutte le esperienze che, tutto quello che ho accumulato, tutto quello che ho percepito, che ho assorbito della Milano degli anni 80-90, io l'ho riversato dentro il personaggio del panettiere. Certo, ecco, partiamo un po' dagli esordi, proprio dall'inizio, tu una volta parlando mi hai detto che tu sei stato un'acrobata, un'artista di strada, un mangiafuoco, una grande amante del circo. Sì, ho iniziato, come molti, ho iniziato come il bravo fiore dell'oratorio, il ragazzotto dell'oratorio che organizza le feste, un po' così, organizzavo le feste anche un po' bislacche. Nella fine degli anni 70, io ero già un ragazzino, un adolescente, organizzavamo feste con le canzoni di Tozzi, ti amo, e poi mettevamo anche la musica della Saturday Night Fever, poi c'era sempre uno di guardia per vedere che non arrivasse il prete, quando arriva il prete, noi toglievamo Umberto Tozzi e facciamo partire la musica da oratorio, con i girotondi, arriva il prete, arriva il prete, poi andava via, partiva ti amo, E' certo, eri immancato. Beh, ho iniziato così, poi ho iniziato a fare un trio di clown che si chiamava il Trio Pastello, poi dopo il Trio Pastello sono spinto da una mia amica, mi sono iscritto alla scuola di teatro dell'Arsenale di Milano, che è durata due anni, è stata un'esperienza esiziale, nel senso è stata importante questa esperienza perché io ho lasciato la provincia di Varese e mi sono immerso nel clima di Milano, per me è stata un'esperienza affascinante dove mi si spalancava davanti un mondo che per me era non conosciuto, ero un ragazzo in pieno desiderio di crescere, di evolversi e anche in piena tempesta ormonale. In una metropoli? In una metropoli, Milano mi offriva tutto ed ero al settimo cielo. Quando ho finito la scuola l'ho iniziata senza velleità, che non fosse quella di provare a farla, abbiamo iniziato in 90 e siamo rimasti in 8. La scuola ha mandato me e altri due a rappresentarla a dei concorsi di festival di teatro di strada nell'allora Unione Sovietica, in Francia, in India e da lì mi sono quasi stato costretto a contemplare le possibilità del mio talento, per cui ho detto, forse qualcosa di buono posso fare anch'io e ho iniziato facendo con gli altri, abbiamo iniziato a fare clownerie, facciamo il mangiafuoco, facciamo gli accrobati, un'esperienza che è durata poco, due o tre anni, perché poi comunque il teatro di strada, mentre adesso è visto con più benevolenza, 20 anni fa era visto un po' più da barbone, non era né regolamentato né protetto e per chi voleva fare comicità, come volevamo fare noi, la grande platea era quella del cabaret. Mi sono spostato sul cabaret, gli altri non hanno voluto, li ho persi per strada e sono andato avanti da solo a scrivere. Quindi tu c'è uno spirito libero, un artista di strada secondo me deve avere qualcosa di libertà interiore. Mi è rimasta questa cosa del teatro di strada perché molte volte capita, si rompe il microfono, non funziona qualcosa, lo spazio teatrale o dove ti devi esibire in qualche modo è nemico delle cose che vuoi fare, allora siccome il mestiere dell'attore è far vivere lo spazio dove si trova, io porto l'energia di una piazza dentro magari in uno spazio più piccolo e diventa potente dentro in uno spazio così. Ti ricordi magari un aneddoto curioso d'artista di strada? Mi ricordo due aneddoti, sono stato mandato via da una festa dei Rotari a Monza perché l'organizzatore mi ha detto guarda sono tutti un po' anziani, un po' così, un po' formali nel modo, hanno bisogno di essere svegliati, tu sei l'uomo giusto e mi ha incoraggiato, vai dentro con tutti e due i piedi e non ti preoccupare che poi quando li hai con te si fanno quattro risate e saranno contenti. In realtà dopo otto minuti mi hanno cacciato da questa festa perché ero troppo volgare. Un'altra volta mi hanno pagato lo stesso, è stato lo spettacolo più pagato, dove rapporto tempo-denaro è stato perché allora mi ricordo che erano otto minuti di cabaret e mi ero portato a casa un milione e mezzo per cui buttali via, non di euro, di lire. Però mi sono detto vorrei lavorare sempre così. E il secondo invece che stavi raccontando? Il secondo è stato, mi avevano chiamato, allora c'erano le lezioni, un mio collega doveva andare a fare una cosa per il PD, per il PD a Varese e dice guarda io non posso andare, ho detto guarda io vengo, mi pagano il mio mestiere, se mi pagano io vengo, faccio il mio intrattenimento, concordo con il segretario provinciale di Varese, dico guarda facciamo così per non fare la solita pippa dove voi fate il sermone e poi adesso un comico così ridiamo, ho detto creiamo un po' di movimento, fa sì sì che bello, facciamo qualcosa di informale, a un certo punto mentre io faccio il comizio tu esci, fai finta di essere il panettiere che si arrabbia con me e dopo prendi il microfono e racconti le tue cose e tutti ridiamo, ho detto va bene, tutti lo sanno, se non che due o tre funzionali della Digos erano andati a bere il caffè e non sapevano di questa cosa, io mi faccio irruzione in questo comizio strillando come un passo e questi pensavano che io fossi veramente un provocatore, c'era qualche vecchio anziano ex PC che ha detto basta mandatelo via, provocatore fascista, questi qua per non sapere leggere e scrivere mi hanno blindato, andiamo a casa e io dicevo guardate che sto lavorando, anche noi stiamo lavorando, mi hanno gabbiato, mi hanno portato in macchina, è dovuto venire il segretario provinciale del PD di allora a tirarmi fuori e poi hanno fatto l'articolo sul giornale con scritto Stefano Chiodoroli arrestato per sbaglio, commento di mia madre, commento di mia madre allora, no no, non è per sbaglio, se ti hanno arrestato qualcosa hai fatto di sicuro. Vabbè sempre così, le mani hanno sempre qualcosa da puntualizzare. Io prima di andare in pausa, abbiamo ancora due minuti prima del break, volevo concludere questa parte iniziale dedicata un po' al mondo del circo, si dice che il circo è magia, lo è stato anche per te, noi abbiamo qualche immagine che ti ritrae, che sicuramente è già andata in onda dietro di noi ma anche nella loop. E' bello, io poi ho tanti amici nel mondo del circo, sono molto amico della famiglia del circo Codanti per esempio, se adesso ci stanno vedendo saluto questa foto che c'è dietro l'ho fatta nel circo Codanti, il circo è il mondo che non si ancora, il mondo dello spettacolo come era cento anni fa, delle cose semplici proposte per le famiglie, è un mondo che sta finendo quello del circo, perché adesso subentrano mille altri intrattenimenti in più, le persone del circo sono anche avversate e combattute dagli animalisti, io sono andato a trovare un mio amico e prima di ogni spettacolo arrivano magari una manifestazione di gente che protesta contro chissà quali... Ma ci fossero degli aguzzini nei confronti degli animali. In realtà loro gli animali li amano, gli animali sono lì, l'animale fa il suo verso, in realtà poi ogni casa è un circo, io ho un cane o tre gatti, non vivono nella savana, vivono in cattività perché sono in casa mia e hanno la funzione di compagnia, scambiamo reciproco affetto, uguale questi miei amici del circo, hanno degli animali che lavorano nel circo e con i quali si scambia un affetto reciproco, insomma. Comunque il circo è la dimensione primitiva di regalare sogni, c'è il clown, c'è tutto nel circo, diciamo che è un grande affetto perché dentro nel circo si sono generati molti dei personaggi e sicuramente l'energia a cui io attingo quando mi esibisco in qualsiasi situazione è un'energia da circo, ha quella potenza lì. Stefano, mi devo fermare per qualche istante, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, poi ritorneremo ancora con te e ci racconterai il proseguo della tua illuminante carriera artistica. Però prova a dare la pubblicità come farebbe il panettiere. Allora come farebbe il panettiere, direbbe il panettiere, adesso c'è la pubblicità. Ci vediamo dopo. Eccoci nuovamente nel nostro salotto di personaggi, con noi il vigevanese Stefano Chiodaroli, grande artista comico, ha solcato come dicevamo all'inizio i più importanti palchi della comicità italiana. Da Zelig a Colorado, un sacco di film, insomma tantissime cose. Un po', un po'. Un po', un po', come dici tu, insomma tante volte sei modesto ma insomma è la verità, è la verità. Guarda non è che sono modesto, è che dall'esterno uno vede delle cose e le collega in una specie di rosario virtuoso di cose fatte bene. In realtà, credimi, per una cosa che mi riesce, ce ne sono 46 che non mi riescono. Quello fa parte del gioco. Ci sono dozzine di provini andati male, figure di merda o cose sbagliate, però insomma diciamo che non c'è niente. Forse era Robert Michun che diceva che la carriera di un attore, tolti i primi 30 anni distenti, poi è tutto in discesa. Certo. Io adesso dovrei finire i 30 anni distenti. Quindi adesso dovrebbe essere in discesa. Da quest'anno ho 54 anni, ho iniziato a 24 anni, finisco i 30 anni distenti adesso a dicembre. Però non sei provato. No, per niente, per niente. Anzi, oggi festeggio, festeggio qua con voi amici di Telepavia, oggi festeggio i miei 100 kg, perché stamattina mi sono pesato e io peso 100 kg tondi tondi. A furia di mangiare pane. No, non sono un grande mangiatore di pane, sono un mangiatore, sono goloso, mi cibo di poche semplici cose. Il mio piatto ideale è una bella bistecca, della piccantissima senape, delle verdure grigliate. Non vuoi non metterci insieme due o tre bicchieri di vino rosso come si deve. Si conclude il tutto con un pezzettino di cioccolato e un buon amaro o una grappa. Non ti tratti male. Diciamo che non mi tratto male. Non ho l'alimentazione di un canarino. Vino preferito? Vino preferito sono i vini che hanno preso tanto sole. Per cui ho degli Syrah, o dei Neridavola, o dei Primitivi, o se no piuttosto dei Cabernet Sauvignon. Non mi piacciono molto i vini del nord, perché non li capisco. Forse perché in 30 anni di serata in giro per l'Italia ho sfasciato lo stomaco. Ormai ci sono delle cose che non riesco più. Sei un appassionato di enogastronomia? No, sono un gioviniano, sono un sagittario, quindi mi piace, sono un po' godereccio. Mi piacciono i piaceri della vita. Come diceva il poeta Walter Whitman, amo la carne e tutti i suoi desideri. Ogni senso per me è benedetto. Certo. Io volevo cominciare, abbiamo parlato un po' di quello che stai facendo attualmente, il futuro film che uscirà a primavera, circa. Abbiamo parlato che sei diventato anche questa metamorfosi da comico a pittore. Però io volevo ripercorrere, abbiamo ricordato un po' anche la figura del panettiere, però volevo ripercorrere anche altri personaggi che sono un po' ormai dei miti della comicità. Io te ne cito uno, ma li sono segnati perché sono davvero tanti. Tempesta ormonale. E vi facciamo da ridere. Tempesta ormonale, quando ho fatto Tempesta ormonale io ero convinto di chiudere la genesi dei miei personaggi comici, è più o meno così, perché i miei personaggi, il panettiere è nato nel 98, ha quasi 20 anni quest'anno il panettiere, ed è nato per caso da un laboratorio dove io su una serie di stimoli ho provato a fare questo personaggio del panettiere che ha avuto subito presa e quindi mi ha portato via un sacco di energia, un sacco di interesse. Poi è nato il mago abajur, li te li cito così poi arriviamo a Tempesta ormonale. Poi è nato il mago abajur, il mago abajur è nato copiando dagli acrobati che avevo fatto in Russia, quell'energia da acrobato un po' pazzo del circo, l'ho riportata tutta in questo personaggio del mago abajur che è un mago veramente matto e anche in questo caso è una maschera che mi permette di raccontare un po' della mia follia e della mia energia fisica che magari non ora, ma vent'anni fa era realmente esplosiva. Poi è nato un personaggio che era quello di Ornello, l'ex fotomodello. Nel 2001-2000 era uscito un film che era Fight Club. Io nel 2000-2001 avevo il buon tempo di dedicarmi alla palestra, al fisico, più che al fitness ed ero veramente un toro muscoloso. Era con Van Damme, no? No, era con Brad Pitt. E io mi dedicavo anima e corpo alla cultura, mi piaceva molto, però poi non avevo anche il senso del ridicolo. Per cui questa cultura del fisico l'ho portata in questo personaggio che era Ornello, l'ex fotomodello. Era uno che si spogliava quasi completamente, restava con un tanga di pelle sangiato e poi si dipingeva sul corpo col pennarello quelli che erano i punti erogini che le donne avrebbero dovuto toccare per stimolarmi a dovere. Ecco, diciamo che non era proprio un personaggio per tutti i palati. Ed è un personaggio che tra questo mezzo nudo, più accompagnato dal pop inglese di Jimmy Somerville, diciamo che poi non mi posso rammaricare se sono diventato anche un'icona del mondo gay, della categoria bear, perché me la sono andato a cercare un po'. Certo, sono d'accordo. Arriva Tempesta Ormonale. Tempesta Ormonale arriva in un momento in cui ero un po' in crisi. Ero stufo del panettiere, ero stufo delle altre cose. Stavo cercando altre cose, però la mia ricerca era sempre nell'estremo, perché io mi dicevo vabbè, se devo muovermi, mi devo muovere, dove mi posso muovere, in che direzione posso andare, dove posso scoprire qualcosa che mi chieda e che mi permetta di esprimere più forza. La visione del film Brave Heart mi ha portato a curiosare nel mondo dei celti, degli scozzesi, in queste memorie forti e ancestrali, in questo legame forte con la terra. E lì ho trovato delle suggestioni molto potenti, è un mondo che mi ha affascinato molto. Mi sono comprato dozzine, centinaia di libri su quel mondo, senza un perché particolare. Per curiosità e amore di sapere di più, la traduzione comica di quelle conoscenze è diventato questo personaggio di Tempesto Ormonale, che è uno che ha il kilt, si dipinge e ne dice e ne fa di tutti i colori. Poi c'era Mariano, sono davvero tanti. Mariano è un personaggio di Belli Dentro, quando ho fatto il sitcom Belli Dentro, con gli amici di Zelig e con gli amici della casa di produzione televisiva Grundi. Che era tutto ambientato in carcere. Era tutto ambientato in carcere, eravamo tre carcerati, io, Leonardo Manera, Claudio Batta e l'altra cella, la cella femminile, c'era Brunella Andreoli, Geppi Cucciari e Alessandra Ierse e hanno preso nel mondo dei comici quelli che erano nei temperamenti non più delinquenziali, però più colorati e più vicini a quello che poteva essere degli scavezza coni. Infatti io, con i miei personaggi, sempre un po' sopra le righe, un po' forti, non sempre ho trovato spazio e sostegno dentro una tv commerciale. Io ti fermo, io ne ho uno che sicuramente non ha trovato spazio, poi me lo confermerai o mi smentisci. Vediamo un po', che è il prete. Il prete in quella gag che è il chicco di senape. Prego Danilo. Dov'è carità e amore, ci sono anch'io. Se il chicco di senape cade in terreno poco profondo, inizialmente darà frutto che ova, ma poi la mancanza di acqua, la mancanza di coltivazioni lo farà morire. Se il chicco di senape cade in terreno arido, il sole lo farà seccare, asciugare. Ma se il chicco di senape cade in terreno concimato, la radice si radicarà, crocerà un grande arbusto e le chiove, farà l'ombra agli uomini che passano sulla strada soddisfante. Se succederà questo, poi ci sono le radici che vanno nel marciapiede, le persone che ci dà fastidio, le foglie che cadono nel tombino e ne esce l'acqua, nel tombino, poi l'ombra e poi si accade nel fulmine, e poi si accade la planta, e poi si viene nel vento, una riunione con l'amministratore condominiale che dice il chicco di senape è caduto, ha fatto le radici, ha tutto un disastro, il chicco di senape è caduto. L'uomo è come il chicco di senape, sempre salutato. Dov'è carità e l'amore, ci sono anch'io. Ridi ancora? Questo sicuramente è un personaggio di quelli che... Sì, io ho fatto il chirichetto per sei anni a Varese, sono stato il chirichetto, poi un bel giorno il prete in terza media mi ha detto, ma tu sei ancora qui a fare il chirichetto? Ho detto, sì perché sei più grande di me, vai a giocare con gli altri, non ti posso dire, sei un uomo, o di venti preti, o guarda, non vedi che sei un gigante. Ho attinto a quel mondo, la canzone è una canzone liturgica che io cantavo quando servivo messa, è un mondo, è un ricordi che ho con grande affetto, ma dopo ho attinto ai mille preti anzianotti che alla fine perdevano anche il senno e cominciavano, erano ridondanti, dicevano, riuscivano a parlare mezz'ora senza dire nulla, ecco il prete è un po' questo, è un strizzo l'occhio quel mondo lì, in questo momento è un personaggio un po' forte questo del prete, perché comunque si parla di questioni religiose, si parla di... delle volte non conta nemmeno quello che dici, ma basta evocare una tematica e si drizzano mille antenne e allora tante volte l'editore, piuttosto che rischiare una lettera dal moige o da qualcuno che dice eh però, perché basta che uno dice eh però mi sento preso in giro, tu sei finito, perché infatti adesso è difficilissimo fare comicità, perché c'è sempre qualcuno che, passami il termine, c'è sempre qualcuno che si incazza, se tu parli delle tende, se tu parli delle tende ti chiami, c'è sarà un brian solo che fabbrica tende che ti chiama, dice però avete parlato delle tende in modo che secondo me è troppo denigratorio, mi sento danneggiato, non parlate più delle tende. Ti tirano la giacca. Io volevo parlare adesso del Chiodaroli attore da film. Ok. Tu hai fatto tanto, hai lavorato anche in un successo, in un grande successo di Checco Zalone, come abbiamo detto prima e lo ricordo, uscirà presto un nuovo film, che differenza c'è tra la comicità da palco e quella da macchina da presa? Guarda, è completamente diverso. Lo spettacolo dal vivo è quello più gratificante in assoluto dal punto di vista emotivo, perché sei sempre tu il padrone, sei sempre tu che racconti te stesso e ha un rapporto diretto, emotivo, emozionale con chi ti sta guardando in quel momento. La tv è la tv interessante dal punto di vista commerciale, perché se sei in tv vuol dire che sei interessante e ti dà fama e celebrità, ma la tv è molto rapida, la tv ti inghiotte, se non appare in tv per più di sei mesi la gente pensa che sei morto o che sei andato in decadenza, però alla tv devo molto, la tv è meglio usarla piuttosto che esserne usati. Il cinema è tutta un'altra cosa, nel cinema non sei tu il padrone delle cose che fai, ma sei un attore a disposizione di una visione di altri, che è la visione del regista, ma il cinema rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ha la magia che ti rende in perituro, una volta che hai fatto un film, finché ci sarà questo film, tu resti per sempre, pochi vanno a rivedersi un frame di una vecchia trasmissione che hai fatto nel 2004 per quanto divertente, ma tanti si vedono e si rivedono volentieri un film dove ci sei tu e il film ti cristallizza un po' nella memoria delle persone, perché sta accadendo lì e tu sei ancora lì con loro in quel momento. Tu hai recitato in film, ricordo, quello di Checco Zalone, Cado dalle nuvole, raccontaci qualcosa anche di Checco, insomma è considerato un po' oggi il comico per eccellenza, insomma. Checco è stato molto intelligente, è molto arguto, è stato padrone, ha avuto il coraggio di essere padrone e consapevole del proprio talento e l'ha sfruttato al massimo. La storia del film di Checco è molto semplice perché c'era, adesso non mi ricordo, come si chiama il comico toscano? Pieraccioni. Pieraccioni, la storia del film è questa, Pieraccioni chiama Checco e dice ma ti vorrei, vorrei con te, con un tuo personaggio nel mio film. Checco gli dice di no, ma perché gli dice di no? Perché Checco aveva già in mente di fare un film e Checco era andato a proporlo al proprio produttore, dall'allora amministratore delegato di Bananas, dicendo ma perché non facciamo un film? Gli è stato risposto ma no, non sei ancora maturo per fare un film di questo genere, però dall'altra parte ti chiama Pieraccioni e ti trova interessante per il cinema e allora tu dici beh, se sono interessante per il cinema fammi investire su me stesso. il produttore di Tao 2 che è, non me lo ricordo, perdonami i nomi ma l'orario, un produttore importante, questo produttore importante lo vede e si confronta col figlio e dice ma senti tu che mi dici di questo Checco Zarone? Fa guarda è potentissimo e ha accettato di investire su di lui. La cosa bella è che non ha fatto alla solita fine del maiale scannato, cioè ti chiama il produttore e poi in montaggio, in scrittura ti impone un altro regista, per cui la promessa del tuo talento viene snaturata da mani altrui, ma gli ha lasciato mano libera sia come montaggio, sia come regia e per cui questa è stata una grande opportunità, è stato un grande successo. Ha salvato il cinema, ha salvato l'industria cinema di questi anni e colpevolmente gli spocchiosi protagonisti del cinema contemporaneo lo schifano, quando lui è la locomotiva che ha fatto il lavoro sporco di portare tanti soldi dentro nel cinema. Lo condivido, lo condivido in pieno. Ti faccio un altro nome, un altro grande, Diego Batantuono. Dico Batantuono, a Diego Batantuono devo tutto se non molto perché quando nel 2001-2002 io avevo già approcciato Zelig, ma me ne ero allontanato perché ero andato a Zelig troppo presto, non ero ancora maturo per la TV, mi ero un po' bruciato ed ero stato un pochettino marginato dalla TV, proprio perché la TV rapidamente ti prende, però quando decidono che Chiodaroli non funziona, Chiodaroli non funziona. In realtà Batantuono mi invita a un laboratorio di Colorado che nasceva in quei tempi. Io sono andato e ho fatto le mie cose, con la tranquillità e la rilassatezza di uno che si vuole divertire. Lui non aveva mai visto personaggi del panettiere, Mago Bajur, Ornello, né lui, né il produttore che era Maurizio Totti e si sono entusiasmati, mi hanno accolto, mi hanno valorizzato, mi hanno dato un grande spazio dentro Colorado e quindi nel 2004 io ho potuto esprimermi, non mi hanno posto nessun tipo di limite né di tempo né di linguaggio e questo per me è stato liberatorio e mi ha permesso di decollare in modo importante, per cui a Diego debbo molto se non tutto del mio accesso in TV. Un altro nome, Antonio Banderas, poi è l'ultimo, poi parliamo ancora un po' del recente. Banderas ho fatto un film inglese che si chiama The Other Man, c'era lui e c'era Liam Neeson, io Antonio l'ho incrociato per caso sul set, è un omino piccolo piccolo e invece poi con Liam Neeson, che è il protagonista di Schinders List e quant'altro, è stato bello perché io facevo la parte di un taxista che lo scarozzava in giro per città, ho avuto la modo di stare insieme a lui per qualche 20 minuti e ci ho parlottato un po', è veramente un titano, un personaggio mitico, è stato emozionante lavorare con loro, sono la cosa bella degli artisti e delle case di produzioni inglesi che sono di una serietà e di una cordialità e di una puntualità inimmaginabile da noi. Volevo parlare come abbiamo detto di qualcosa ancora recente, abbiamo fatto un flashback sulla tua carriera rispetto all'inizio della nostra trasmissione e adesso ritorniamo a parlare di oggi, tu come abbiamo detto sei Varesotto ma trapiantato da tantissimi anni, non so quanti, da Vigevano? Siamo qua dal 2002, quindi da un bel po', conosci il territorio, ti sei anche impegnato sotto il profilo politico, sociale per la tua città, come la vedi? Come lo vedi questo periodo? Allora, intanto ti dico come mai mi impegno, mi impegno perché il mio temperamento è immediato, è sincero, è schietto diciamo così, mi sono impegnato non tanto come persona pubblica, anche se mi rendo conto che il mio impatto pubblico è importante, non decisivo sicuramente, però ha un suo peso, l'avrei fatto anche se fossi stato Stefano Chiodaroli in bianchino, nel senso io penso che un uomo adulto non può non avere le preoccupazioni da abitante, io ho le preoccupazioni dell'abitante e del cittadino, lo spazio che non occupo io lo occuperà qualcun altro e magari farà cose che a me non piacciono, per cui preferisco esserci e decidere e fare quello che posso per il mio territorio, per dove vivo. Poi io non ho, un mio grande difetto è che non sono capace di grande mediazione, non sono politico, non ho attitudine al compromesso, anche se poi umanamente sono l'uomo più condiscendente e più gentile, però poi non riesco proprio a trovare dentro di me la capacità di mediare perché non mi interessa della politica. Io avevo un vecchio, mio padre era un vecchio democristiano e si è sempre impegnato molto a scuola, nel sindacato, nelle cose, e questo insomma un po' questa cosa mi è rimasta, cioè che un uomo si deve impegnare oltre che per casa sua, anche per il fuori casa sua, perché sono i cittadini che si danno da fare e che poi creano o costruiscono la città, tutto qua, per cui mi ha lasciato questa cosa che se puoi fare qualcosa per la tua città, io lo faccio con chiunque ci sia, nel senso che chiunque governi il territorio, io non ho preclusioni, basta che si fanno a patti schietti e ci si accorda su cose reali e non campate in aria, io ci sono sempre. Vuoi vedere cose tangibili? Sì, perché poi si tratta di fare o non fare le cose, è banale da dire, però la politica è buonsenso, è solidarietà e la solidarietà non è che a tutti manca qualcosa, la solidarietà è che il bene di uno è il bene di tutti, per esempio, è un grande valore e non è il compromesso, è diverso dal compromesso. Stefano, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, io ti ringrazio di cuore di aver accettato il nostro invito, con te abbiamo parlato un po' di tutto, anche di politica, abbiamo parlato anche di, non solo della tua carriera ma anche di tante altre cose, per me è stato un piacere davvero intervistarti. Grazie. Tocca al lupo se ne hai bisogno. No, viva il lupo, perché non mi piace far crepare il lupo, perché far crepare il lupo no, però il lupo è un animale che mi piace, ho un bel cane, un bel cane pastore tedesco, non riesco a dire crepì il lupo. Grazie, io ringrazio te, ringrazio anche gli amici che ci stanno seguendo da casa, adesso ci vedranno in registrata, ci vedranno in differita, ci vedranno magari sulle piattaforme web, sull'on demand nostro, insomma ci sarai, metteremo un sacco di trasmissioni dedicate insomma a raccontare un po' il mondo dei personaggi della provincia di Pavia e non solo, proprio perché giustamente bisogna darne atto che ci sono davvero tante persone che fanno molto per il territorio. È un mondo ricco perché c'è anche, poi magari lo inviteremo, lo inviterai, c'è anche Ron che adesso è Sanremo, sicuramente magari lo vince pure, facciamogli scongiuri. Io chiudo qui la puntata di personaggi di questa sera, vi do l'appuntamento alla prossima settimana e ovviamente rimanete con noi, con la nostra emittente.